Buone notizie per la Città della Fortuna. Il commissario straordinario alla ricostruzione, generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato alle regioni Emilia-Romagna e Marche l'ordinanza con la quale si forniscono le indicazioni per procedere al finanziamento degli interventi da realizzare e regimi di sommarurgenza per far fronte all'emergenza provocata dall'alluvione del 16 maggio scorso. Al Comune di Fano, come annunciato dal Vice Sindaco Cristian Fanisi, sono stati assegnati 300 mila euro suddivisi in due annualità, 2023 e 2024, per la sistemazione di alcune frane e strade di campagna dove occorre ripristinare la normale viabilità. Una notizia buona perché questi soldi sono arrivati e quindi un intervento che il Comune di Fano ha già pianificato e metterà in campo entro quest'anno e in parte e anche il prossimo anno dovessero prolungarsi i lavori. I mesi scorsi avevate già ricevuto contributi di questo tipo? Sì, esiste un'ordinanza, la 1200, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci ha segnato appunto in via d'urgenza 517 mila euro circa, che sono per interventi che abbiamo effettuato immediatamente dopo gli eventi meteorici e per alcuni interventi che stiamo pianificando come ad esempio la sistemazione della foce del torrente Arzilla dove a causa degli eventi del 16 maggio il ponte di collegamento tra Lido e Arzilla ha subito dei danneggiamenti. Quindi sono fondi che ci hanno già riconosciuto attraverso questa ottenanza e che per i quali stiamo mettendo in campo già la chiamata delle ditte per intervenire immediatamente. In base a quali criteri avete scelto questi interventi? Sono frutto delle segnalazioni fatte dai cittadini nel giorno dell'evento ma sono frutto anche dei sopralluoghi fatti dai tecnici comunali insieme ai tecnici della protezione civile che sono appunto andati sul posto e hanno riscontrato gli interventi più urgenti e quelli più impegnativi. Sono diversi, sono una quindicina gli interventi. Solo per fare degli esempi stiamo parlando della strada Ferretta, strada del Giardino, Magliano, la strada da Caragnano a Beltrame, la via Madonna del Cavaliere eccetera eccetera che sono appunto queste strade dove sono intervenuti eventi gravitazionali sulla strada che hanno incluso appunto del transito normale dei mezzi.